È stato sicuramente un fine anno, un Natale sottotono, abbiamo assistito fortunatamente alla corsa al regalo degli ultimi giorni, ma sicuramente questo è il Natale dell'Imu ed è il Natale dei saldi eminenti, data di inizio fissata salvo ritrattazioni dell'ultima ora per sabato 5 gennaio. Tutto questo sicuramente ha inficiato la capacità di spendita dei cittadini algheresi proprio nella settimana di Natale. Siamo fiduciosi che i saldi vadano meglio, probabilmente il fatto che i cittadini abbiano risparmiato proprio sulla tredicesima, anche se come abbiamo già detto sarà portata via l'Imu. È stato proprio l'Imu sicuramente l'avversario della corsa al consumo di fine anno, una tassa che probabilmente verrà ripristinata. Bisognerà correre ovviamente ai ripari, cercare di far capire al Governo centrale che è un'imposta che applicata a giugno va a minare sicuramente il budget che i cittadini destinano alle vacanze estive. E' applicata la seconda rata a fine anno, la data di scadenza era proprio il 17 dicembre, intacca quasi totalmente la tredicesima degli italiani. Quindi l'augurio e l'auspicio è che per quanto riguarda i saldi la corsa al consumo un attimino riprenda, riprenda proprio per dare un attimino anche un segnale forte, un segnale di ottimismo, le imprese oggi ne hanno sicuramente bisogno.